Pronti? 1, 2, 3 Questa volta è valido il segnale con partenza molto sollecita di Hundebet dall'estremità della seconda fila cerca di portarsi su Powertrab Saira ed è Powertrab a conquistare il comando su Saira all'esterno rimane Hundebet e vediamo cosa succede dopo i primi 200 metri con Hundebet che va all'attacco di Powertrab che si getta di galoppo e così Hundebet in vantaggio su Saira dopo 300 metri di gara numero 3 Powertrab squalificato poi Tilde Mati ancora Raden Scadaghi che precede Uvenia Mail e via via gli altri con il quarto iniziale in 29.1 per Hundebet che Luca Lovera ha portato velocemente sui primi l'errore di Powertrab gli ha aperto la strada e ora Hundebet guida tranquillamente dopo 600 in 45.2 Saira e Rusan MS nelle immediate posizioni di rincalzo se ne va intanto il giro iniziale completato in 1.1.4 ancora un parziale di tutta tranquillità in 16.2 per il Battistrada che si appresta a completare il chilometro quando all'esterno cerca di farsi luce gradualmente Uvenia Mail trascinandosi Ursus TFT poi anche Raden Scadaghi ha preso la via del largo e in coda rimane Ombromanto OM Parziale in 14.9 davanti alle tribune siamo ora all'attacco della penultima piegata sempre un Debet a condurre nei confronti di Saira Uvenia Mail all'esterno lungo la corda Rusan SMS allargo Ursus TFT 600 alla conclusione ora ha accelerato decisamente il Battistrada rimane lì in scia comunque Saira e all'esterno è sempre Uvenia Mail quando siamo a 400 dalla conclusione Parziale ora in 14.6 terza ruota per Raden Scadaghi mentre più indietro c'è Ruggiada SMS che sbaglia insieme a Uvenia Mail numero 9 Uvenia Mail squalificato numero 8 Ruggiada SMS squalificato viene forte a centropista Raden Scam ma all'interno c'è Saira finale con Saira che passa e vince Saira nei confronti di Undebet al terzo posto chiude Raden Scadaghi 29.9 a chiudere 1.16.1 il raguaglio conclusivo Maurizio Cheli porta al successo Saira in open stretch con Undebet che nel finale aveva un po' di difficoltà vedete deve essere richiesto a fondo e Saira ne approfitta per prendere il sopravvento nelle battute conclusive e portare alla vittoria il comune di Anzola successo quindi per Saira 23.07 la quota al totalizzatore quota davvero molto molto grassa per l'allievo di Maurizio Cheli e di Ettore Vairani da programma il secondo posto sul traguardo per Undebet andiamo a rivedere il finale bello il successo ottenuto da Saira quota davvero strepitosa 23.07 la totalizzatore rimane il secondo Undebet controllando Raden Scadaghi Grazie a tutti